Fin dalla sua nascita, la Fondazione Simbola, una nascita recente, si è impegnata per scovare, mettere in comunicazione, rafforzare l'attività di quanti in Italia hanno accettato la sfida della qualità, nelle imprese grandi e piccole, nel territorio, nelle istituzioni, nella società civile. La convinzione che noi abbiamo sempre avuto è che l'Italia è forte se fa l'Italia, una convinzione rafforzata anche nella crisi, perché nella crisi noi sappiamo che dobbiamo difenderci dalla crisi, impedire che la società si strappi, che qualcuno rimanga indietro, ma anche capire qual è la chiave del futuro. Simbola è convinta che questa chiave non possa che essere accettare le sfide del futuro, tutte, a cominciare da quella dei mutamenti climatici, delle grandi cambiamenti che sono chiesti senza perdere l'anima del nostro Paese. È una scommessa sulla produzione, come direbbe Carlo Maria Cipolla, all'ombra dei campanili di cose che piacciono al mondo, che mette in gioco saperi, passioni, conoscenze e anche storie, culture, di cui il nostro Paese è un deposito, è un serbatoio straordinario. Lavoriamoci sopra.